È davvero difficile rimanere indifferenti davanti all'enorme spreco alimentare che vede finire nella spazzatura quasi un miliardo e mezzo di tonnellate di cibo ogni anno. A Modica, in questo senso, è finalmente diventata realtà l'idea nata da un gruppo di sette amici contro lo spreco alimentare e a favore delle persone bisognose. L'associazione EAS, Eccedenze Alimentari Sicure, ha avviato ogni venerdì pomeriggio in un locale di via Sandro Pertini a Modica concesso dal comune la distribuzione gratuita di alimenti di assoluta qualità ma ormai non commerciabili dalla grande distribuzione. I fondatori dell'associazione credono nel volontariato e nella solidarietà verso quelle persone che si trovano in difficoltà economiche e faticano a mantenere le proprie famiglie. I valori e i principi che hanno ispirato l'associazione sono quelli di accogliere e mettere al centro le persone con la propria dignità e le pari opportunità facendoli diventare soci attraverso un'autocertificazione. Il nostro target sono persone bisognose e indigenti che hanno delle difficoltà per diversi motivi e possono aderire presentandosi direttamente al nostro ufficio in via Sandro Pertini. Anche il venerdì pomeriggio stesso per il ritiro chiediamo una quota sociale proprio per le spese vive di 10 euro l'anno sono praticamente meno di un caffè al mese per sostenere la nostra associazione e poter accedere al recupero e al ritiro di questi alimenti che ripeto il nostro obiettivo è quello di farli strutturali quindi tutte le settimane per l'intero anno. Attualmente hanno risposto quello che è il gruppo Ergon quindi con i punti vendita dell'Eurospar in via Fosso Tantillo e quello dell'Interspar della Fortezza. Siamo in fase conclusiva anche i rapporti con la DECO, gruppi Fratelli Arena per stabilire e fare un protocollo d'intesa per poter raccogliere e stabilire le date di raccolta e non ultimo anche la CONAD siamo ancora in fase di trattativa.